In questa puntata di Unicam News, Unicam ha presentato a Civitanova Marche gli spin-off dell'Ateneo. Alvia la tredicesima edizione del Master in Manager di Dipartimenti Farmaceutici. Unicam e l'Ubevolli per crescere e vincere insieme. Convegno ad Unicam su sviluppo economico del sistema globale. A tutti voi ben ritrovati con questo appuntamento con le notizie dell'Università degli Studi di Camerino. Avete sentito i titoli, adesso i servizi e le notizie. I Like Startup è stato questo il tema dell'evento organizzato dall'Università di Camerino nei giorni scorsi al Teatro Cecchetti di Civitanova Marche, alla presenza tra le altre autorità anche del sindaco Claudio Corvatta. L'evento ha rappresentato un altro momento importante per far conoscere al territorio le iniziative e collaborazioni che Unicam ha messo in campo per incentivare i giovani laureati alla creazione di imprese. Siamo convinti, ha ribadito il Rettore Corradini, che investire in ricerca e innovazione attraverso azioni che possono favorire l'auto imprenditorialità dei nostri laureati possa rappresentare lo strumento per superare questo momento di crisi e riavviare il processo di sviluppo del nostro territorio. Vogliamo dunque far emergere le potenzialità dei nostri studenti, aiutarli nel settore dell'auto, imprenditorialità assieme alle imprese e agli enti del territorio per la creazione ad esempio di spin-off universitari, questo genere occupazione giovanile e creatività. L'Ateneo è dunque impegnato a mettere in campo tutte le iniziative possibili per favorire lo start-up e le imprese innovative anche grazie a collaborazioni con i soggetti quali The Hive, Incubatore e Coworking e con l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Macerata e Camerino. L'incontro è stato anche l'occasione per presentare le attività e dei prodotti degli spin-off di Unicam, imprese di successo nate dall'intuizione di giovani ricercatori, docenti, laureati e studenti. Gli spin-off Unicam sono attualmente 12. Afro Innova, CryptoGam, Econ Design Lab, Elios Istambiente, Next Generation Bioinformatics, Pensi, Proelbar Care, Recursor, Symbiotech, Synthetic Life Technologies, Terre.it. A presso il via lo scorso 27 febbraio, presso il polo didattico scientifico dell'Università di Camerino a San Benedetto del Tronto, la tredicesima edizione del Master Unicam in manager e di dipartimenti farmaceutici, organizzato dalla Scuola di Scienze del Farmaco e dai prodotti della salute dell'Università di Camerino. In collaborazione con la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera, la Società Italiana di Farmacologia, l'area vasta 5 dell'Asur Marche e l'azienda ospedaliera di Bergamo. Sono ben 50 gli iscritti provenienti da 16 regioni italiane, un dato questo che sottolinea il forte e continuo interesse che il corso suscita. Questa è la tredicesima edizione e abbiamo avuto con gli iscritti di quest'anno 450 farmacisti da tutte le regioni d'Italia e il successo è dovuto a diversi fattori, senz'altro a una didattica molto di alto livello con farmacisti, direttori e professionisti chiamati a trattare tematiche manageriali per il farmacista. Queste tematiche manageriali sono essenziali per il ruolo del farmacista nella direzione dei dipartimenti farmaceutici, in quanto oltre alle competenze scientifiche classicamente correlate alla sua professione e quindi al suo corso di laurea, ha necessità di gestire l'attività all'interno del dipartimento e quindi anche da un punto di vista farmaco-economico, gestionale e di interazione anche con molte istituzioni. La novità che abbiamo voluto proporre quest'anno dopo 13 anni è stata fare una lezione, una sessione didattica presso il nuovo ospedale di Bergamo e questo nasce dalla collaborazione con l'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo e questo potrà offrire farmacisti oltre a una didattica frontale su nuove tematiche anche una visita guidata all'interno dell'ospedale con particolare attenzione alla farmacia e con organizzazione dipartimentale e con un forte orientamento clinico. Prosegue con successo la collaborazione tra l'Università di Camerino e l'Ube Industries che prevede anche la sinergia con il Cus Camerino e la Lube Volley. Nella partita disputata domenica al Fonte Scodella di Mascerata, nettamente vinta dalla Lube Banca Marche, protagonista è stata anche Unicam. Poco prima dell'inizio della gara, infatti, il rettore Flavio Corradini ha consegnato il addetto dell'Università di Camerino al capitano Ivan Zaitzvez. La collaborazione vuole essere un'ulteriore conferma della convinzione che uno sana, leale e vincente attività sportiva rappresenti un ottimo esempio formativo per tutti i nostri studenti. Vedere i giocatori di questa squadra, che è motivo di orgoglio per tutto il nostro territorio, giocare con lo scudo Unicam al braccio non può che renderci onorati. Prosegue la collaborazione tra l'Università di Camerino, il COSMOB, Centro Tecnologico Settore Legno Arredo, ed il Sabre, l'agenzia che sostiene le piccole e medie imprese brasiliane e la Regione Marche. Si è tenuto infatti nei giorni scorsi a Camerino il workshop, le criticità delle istituzioni nell'affrontare il cambiamento economico del sistema globale, per tracciare in particolare un'analisi comparata per macro-regioni, in questo caso Italia, Europa e Brasile. Sono intervenuti tra gli altri Fausto Bertinotti, presidente della fondazione Cercare Ancora, che ha tenuto una relazione sulla incompatibilità tra capitalismo finanziario e globalizzato e la democrazia, ed il giornalista Giulietto Chiesa, che ha tenuto un intervento sull'Europa prima vittima della fine dell'impero. Nel corso dell'incontro è stato anche firmato il protocollo d'intesa tra Università di Camerino e Cosmob, che prevede la collaborazione per lo svolgimento di attività comuni nei campi della ricerca, alta formazione, trasferimento tecnologico. Si consolida così la collaborazione per progetti di ricerca e attività formative da realizzare in sinergia. E con questo è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo mercoledì, ovviamente alla stessa ora. Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le altre notizie sull'attività delle Università di Camerino sul sito internet www.unicam.it. Buona serata. Grazie. Grazie.